Good morning Milano, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, 7.08 martedì 19 marzo come sempre qui su Crystal Radio con una nuova mattinata in vostra e nostra compagnia. Good morning Milano a tutti quanti e a tutte quante, si inizia anche oggi, giornata lunga davanti a voi, corta, stancante, rilassante, ce lo potete raccontare. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5, il nostro numero di Whatsapp, attendiamo i vostri Whatsapp, li abbiamo un po' qui davanti a me, al mio bel computer che può ricevere tutto quello che volete condividere con noi, messaggi, foto, video, audio, quello che volete. Noi siamo qui pronti a riceverlo e a condividerlo con tutti quanti perché è un'altra giornata, un'altra mattinata in compagnia di Crystal Radio che vi ricordo essere sempre qui pronta a darvi tutta la musica che volete ascoltare, tutte le notizie, grazie a Good morning Milano appunto la mattina. La passiamo anche sfogliando i giornali. 19 marzo, festa del papà, quindi auguri a tutti i papà in ascolto, auguri veramente di cuore a tutti quanti e cosa gli avete regalato al vostro papà? I soliti calzini, i soliti calzini, no vi prego. Le bretelle, io consiglio sempre le bretelle, sono un grande fan delle bretelle, quelle invece secondo me potrebbero aprire nuovi orizzonti. Ah, io ve lo dico, ah, guardate, quando ho scoperto le bretelle non si tornano indietro, com'è che era once you try bretella you never back, è una cosa del genere. Comunque andiamo avanti, Comacose, si inizia. Comacose con Chiamami, buona festa del papà ancora a tutti, oggi appunto è il 19 marzo e il 19 marzo è San Giuseppe, per quello è il festa del papà, perché San Giuseppe, così leggo dalla descrizione ufficiale del santo del giorno, San Giuseppe è il protettore, pensate, di artigiani, carpentieri, ebanisti, pieno a Milano, ah, pieno di milano, economy, così non so perché, falegnami ovviamente direi, mi piace che i falegnami e gli ebanisti sono considerati però due categorie diverse, non capisco come mai, l'ebano non è un legno, comunque. Comunque, poi operai in generale, quindi chiunque faccia andai man, padri di famiglia, ci stanno, ok, ma soprattutto poi i procuratori legali, perché? Questa cosa non l'ho capita bene, non ho capito perché San Giuseppe è il protettore dei procuratori legali, perché non so neanche cosa sia un procuratore legale, credo sia un avvocato o no, o i procuratori quelli dei calciatori, non credo, no, quel procuratore sportivo si chiama. Comunque, San Giuseppe, quindi auguri a tutti i papà e auguri a tutti i Giuseppe, se vi chiamate Giuseppe e siete papà fate la combo e quindi tanti tanti auguri anche a voi. Grazie anche ai Whatsapp che stanno arrivando, grazie a Alberto che ci scrive, buongiorno Fabio e buongiorno Cristallini, buon San Giuseppe e buona festa del papà, quindi auguri davvero a tutti quanti, a tutti i Giuseppe, a tutti i Pino, Giuseppe, Beppe, attenzione, mentre lo dicevo è venuto in mente, auguri sindaco, oggi è l'onomastico del nostro sindaco, del Beppone, Beppe Sala, oggi lo fa, sono Giuseppe Sala, guardate la sua performance artistica nel video di lancio della reunion dei Club Dog, chi lo può dimenticare dopo aver fatto mesi dicendo che Milano non era Gotham City, lui cosa va a fare in quel video? Il sindaco di una città come Gotham City, genio, genio, davvero, fantastico, quindi tanti auguri anche al nostro sindaco. Già che siamo in tema di auguri, oggi è il compleanno anche di Bruce Willis, ne fa 69 però, mica più giovanetto, è anche lui, grande Bruce, ma così essendo più milanesi, più vicino al nostro, anche Claudio Bisio, Claudio Bisio 67 anni, anche lui non è più un ragazzino di primo pelo, è però come fare a non amarlo, non tanto perché non ci interessa, anche se i becchi lo amiamo comunque, ci mancherebbe, appunto attore, cabarettista, io davvero vi consiglio di andare a beccare tutti i film con Bisio che sono uno più bello dell'altro, e vi consiglio un film che è difficile da trovare, quindi non so neanche dove consigliarvelo, perché su YouTube c'è, ma ha un problema, almeno quando l'ho visto io aveva un problema di coding video, per cui andava avanti e indietro da solo ogni volta di qualche secondo, cioè ogni 20 secondi faceva un salto di 4-5 secondi, di solito indietro, quindi dovete rivedervi la scena, ogni 20 secondi dovete rivedervi gli ultimi 5 secondi, era una cosa che un po' andava fuori di testa. Comunque vi consiglio Kamikazzen, Ultima notte a Milano, uno dei primissimi, se non il primo film di Gabriele Salvatores, con un cast che poi diventerà stellare, nel senso che all'epoca erano tutti dei signor nessuno, tra cui Paolo Rossi, Claudio Bisio, Renato Sarti, Bebo Storti, tantissimi appunto gli attori in quel film, datteli un'occhiata, se amate Milano non potete vedere, non potete mancare la visione appunto di Kamikazzen, Ultima notte a Milano. Un altro whatsapp è arrivato adesso proprio sul tema della festa del papà, buongiorno, il mio bellissimo papà fa la combo, perché è papà e anche operaio, ecco vedete, se si chiamava Antonio faceva il trista allora, auguri a tutti papà da quella di Bergamo, bene, auguri anche a te, auguri a tutti, sentiamo invece appunto Milano, Bergamo, uguale traffico. Farrell Williams, Miley Cyrus, Doctor, Work It Out, devo dire che si ricorda un po' quello che abbiamo già detto, ricorda un po' quella dei maneskini e tutto, però posso dire che continuare ad ascoltarla alla fine piace, cioè c'è poco da fare, c'è un ritmo che va dentro, ti entri le orecchie e ti rimani lì. Comunque no, prima quando ho letto il messaggio del papà, di quella di Bergamo, come si firma lei, ho sbagliato, ho detto se si chiamava Antonio, no, se si chiamava Giuseppe, non Antonio, ho sbagliato, ho invertito un po' i nomi, quindi si chiamava Giuseppe e faceva il tris, cosa che invece fa la combo anche il papà della nostra producer Elisa, perché è il suo papà e si chiama anche Antonio, quindi auguri al papà della nostra producer Elisa, nuovo acquisto di Good Morning Milano, che insomma si farà sentire, sono sicuro che farà grandi cose qui con noi. Andiamo avanti, iniziamo, iniziamo con le notizie, perché si è tornato ancora a parlare, perché giustamente quando ci sono cose importanti di cui parlare, perché parlare di quelle importanti? Meglio parlare delle inutili polemiche intorno alla chiusura della scuola di Pioltello per il Ramadan. Ieri, a margine di un convegno qua a Milano, il Ministro Valditara ha detto che bisogna valutare se la deroga corrisponde a esigenze di natura didattica, è un problema di rispetto delle regole, meno male che c'è il Ministro. Ovviamente le scuole non possono stabilire nuove festività in modo diretto o indiretto, così dice il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha sottolineato tutto questo rispondendo a una domanda sulla giornata appunto di chiusura decisa dall'Istituto Comprensivo Statale Hikbal Masih di Pioltello per il 10 aprile. Anche il nome vi fa capire, stiamo parlando di Pioltello, dove veramente il 46% di alcune classi è composto da studenti di fede islamica, di una scuola dedicata a un dodicenne pakistano ucciso in pace. Cioè quindi tutte cose che portano anche a un certo tipo di cultura e un obiettivo culturale forse che c'è nel far conoscere certe culture distanti da noi, niente, noi dobbiamo per forza metterci la polemica, ma soprattutto senza neanche avere il coraggio delle proprie azioni, perché il Ministro dice il mio obiettivo è far rispettare la legge, la legalità, le regole. Oh, meno male, meno male. Il calendario scolastico lo definisce la Regione Lombardia, le scuole possono derogare per esigenze comprovate legato al piano dell'offerta formativa. Il fatto di avere, io chiedo, chiedo per un amico come si dice in questi casi, il fatto di avere più di metà scuola che non va a scuola quei giorni non è forse legato all'offerta formativa, cioè il fatto che non puoi andare avanti col programma quel giorno, visto che poi sembra che il programma è il dio unico della scuola. Ormai non si fa più niente se non il programma, cioè devi fare questo benedetto programma, così tutti i giorni. Non so, io chiedo davvero, almeno, io parlo di quello che dico, signor Ministro, se a lei sta sulle scatole il fatto che invece sia una festa islamica, che lo dica? Ma ci mancherebbe, è liberissimo di dirlo, poi dopo noi la gente ci dirà, e magari, guardi, le dico anche questo, molto probabilmente, molti saranno anche d'accordo con lei, quindi perché dire le regole, la legalità, le cose, diciamocelo, non ci piace che una scuola della provincia di Milano faccia una festività islamica. si abbia il coraggio di dirlo, anzi, complimenti a quel punto, nonostante io non sia minimamente d'accordo con questo, alla consigliera Sardone, che almeno lo sta dicendo, cioè lo sta urlando a tutti i venti, forse un po' troppo per i miei gusti, ma va bene, Sardone, complimenti alla sua, comunque, intellettualmente corretto, quello che sta facendo. Lei dice, io non voglio quella festa, va bene, ne prendiamo atto, spero che il sindaco di Pioltello e il dirigente scolastico non si facciano influenzare da questo e si possa comunque andare avanti. Questo poi è il mio pensiero personale, nel senso ci mancherebbe, però davvero credo che sia importante riflettere su quello che sta succedendo a Pioltello, perché abbiamo perso, e lo dico a tutti e due, quelli da una parte e quelli dall'altra, un'occasione per pensare bene a un tema come questo, che non è solo inclusività, ma proprio anche in questo caso, praticità, semplicemente praticità. Angelina Mango, la noia, 7.33 minuti, bentornati qui a Good Morning Milano, sempre in diretta su Crystal Radio, per raccontarvi un po' quello che succede nella nostra grande Milano, anzi andiamo a leggere i giornali da Repubblica Milano, occupato il liceo Einstein, prenotazioni online, poi gli studenti che restano di notte, vedete, pensate anche come le occupazioni cambiano e si evolvono con la tecnologia, la protesta, la protesta degli studenti, questa scuola lascia indietro chi è in difficoltà, protesta che durerà quattro giorni, così leggiamo da Repubblica Milano, critiche anche alla poca attenzione per edilizia e ambiente, tra le richieste, anche interessante con questa qua, c'è quella di pedonalizzare via Einstein, e sì, così gli studenti dicono, no, bisogna pedonalizzare la via, vogliamo che la nostra voce arrivi a qualcuno che non venga ignorata, come accade invece da troppo tempo, questo spiegano gli studenti che denunciano scuole che cadono a pezzi, che valorizzano chi riesce a stare al passo con una società ultracompetitiva, ma tendono a dimenticare chi invece ha delle difficoltà, favorendo così il disagio psicologico, siamo stremati, proseguono, non accettiamo di essere schiacciati dalla scuola, che dovrebbe essere un luogo sereno e sicuro, e quindi l'Istituto Einstein è la settima scuola occupata a Milano, lo sapete, questa occupazione staffetta, appunto dice che, Repubblica dice, raccoglie idealmente il testimone della protesta del liceo Parini, e quindi va avanti, va avanti questa onda di protesta, che è molto interessante, perché davvero è una nuova modalità, questa della staffetta di occupazioni, molto interessante, perché vuol dire che c'è anche un coordinamento a livello milanese degli studenti che stiamo completamente ignorando in questo racconto, che invece andrebbe scoperto e raccontato, perché vuol dire che questi ragazzi, che noi continuiamo sempre a dire, stanno sullo smartphone, non fanno niente, ecco attenzione, perché magari è vero che stanno sullo smartphone, ma quello smartphone gli permette di fare queste cose, e quindi prenotare online la disponibilità per rimanere a dormire a scuola durante un'occupazione, o creare reti con altri licei, con altre scuole superiori, in modo che si possano coordinare e fare questa modalità, questa nuova modalità dell'occupazione staffetta e del passarsi testimone da una scuola all'altra. Quindi settima scuola occupata a Milano, appunto dall'inizio dell'anno, quindi l'Istituto Einstein, mercoledì e giovedì le lezioni poi dovrebbero riprendere in parte, quindi domani e dopo dovrebbero riprendere in parte, ma chi vuole può continuare anche a frequentare le attività alternative. L'obiettivo che si danno agli studenti è quello di uscire dall'occupazione con una lettera da inviare al Ministero con le nostre richieste. Quindi insomma, ragazzi non stanno giocando, noi abbiamo questa idea che ecco la solita settimana di questi vogliono uscire con una lettera di intenti congiunta di tutto l'Istituto da mandare direttamente al Ministero così che vengano ascoltate le richieste degli studenti. Io credo che a volte nel nostro sminuire certe generazioni, nel nostro sminuire certi atti fatti da agenti più giovani di noi, ci sia anche una leggera invidia per quello che noi non siamo riusciti a fare. Voi avete scritto una lettera da mandare al Ministero? Ce l'avete fatta? No. E quindi molto probabilmente ecco perché a volte lì dobbiamo un po' deridere e dire che sono settimane di vacanza. Complimenti ragazzi dell'Einstein, andate avanti così, andate avanti che lo fate anche per noi. Santi Francesi, da Sanremo ancora li ascoltiamo. Stanno tenendo ragazzi, di solito non è così facile arrivare a un mese e passa dopo Sanremo, invece vedi i Santi Francesi ce la stanno facendo. Bravi Santi, complimenti. Avete letto del cantante dei Santi Francesi che ha deciso di lasciare Instagram? Perché gli dicono sempre che è troppo bello. Cioè no, gli dicono troppo volte che è bello. Cioè detta così male, eh? Però è una cosa particolare deve essere. E soprattutto vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, nel senso che è ovvio che se tu fai il cantante e sei bello, come quello dei Santi Francesi, la gente dice che sei bello. Le donne impazziscono. E questa cosa ha intimidito, ha intimorito anzi, il cantante dei Santi che ha deciso di levarsi dai social. La cosa che mi veniva in mente però era ma chissà cosa pensavano invece, non so, Simon Le Bon de Duran Duran. Cioè quella gente lì, no? Cioè come funzionava? Gli Spandau Ballet, quelli lì, cioè. Ma lo stesso Roby Williams mi veniva in mente andando più vicino a noi, senza il mondo dei social. Però forse era diverso, è che tu eri per strada, impazzivano per te, si strappavano i capelli, poi chiudevi la porta dell'albergo, di casa, ma anche semplicemente la portiera dell'auto e il tuo mondo tornava a essere il tuo. Adesso è complicato, perché con i social ti intano nel tuo mondo. Cioè tu chiudi la porta di casa e poi sul cellulare le notifiche. Ah, tolgo le notifiche, mi collego un attimo per andare a vedere i risultati della Salernitana. Non so, non credo che Roby Williams fosse fan della Salernitana, ma è venuta in mente la Salernitana. E ti arrivano quintalate di notizie di te sui social e dei commenti. Quindi non deve essere facile. Effettivamente, appena ho letto questa notizia l'ho un po' bollato, come dire, sì, vabbè, lamentati. Mi dicessero a me che sono bello e un adone. Cioè invece no, come dire, perché la gente ci vede bene soprattutto. e tutto. Dopo invece, riflettendoci, effettivamente quello che succedeva 30 anni fa, 20 anni fa, ma anche solo 10 anni fa, è completamente diverso da quello che succede oggi. Inoltre, non so se 10-20 anni fa coloro che ricevevano tutte queste attenzioni comunque magari andavano in breakdown, in mental breakdown e tutto, ma non veniva detto perché non si poteva dire, perché bisognava andare avanti, the show must go on sempre. e invece adesso qualcuno ha il coraggio di dire, no ragazzi, io sto male per questa cosa, mi sento mi sento violentato, mi sento oppresso da questa cosa e quindi devo cambiare in qualche maniera. Quello che è anche sconvolgente se ci pensate è che potrebbe cambiare davvero solo togliendosi dai social. E quindi è veramente una cosa, però se ti togli dai social tu puoi continuare a fare il cantante nel 2024, puoi continuare ad essere un personaggio pubblico e può un cantante non essere un personaggio pubblico? Davvero non è così semplice arrivare a una soluzione di questa questione. Andate a cercare comunque la storia perché è veramente interessante questa cosa che appunto il cantante dei dei Santi Francesi ha deciso di di togliersi dai social. Lui si chiama Alessandro De Santis credo, sì, credo sia, o Mario Lorenzo Francese no, Alessandro De Santis credo sia Francese credo sia quell'altro se non sbaglio. Comunque andate a vedere cercate un attimino sì sì Alessandro De Santis appunto Alessandro De Santis in teoria poi lui dice che ha detto che non si è tolto dai social perché stanco di sentire che sono bello dice che è un po' diverso se volete c'è un'intervista anche a Cattelan che la spiega bene e andate a a sentire le sue motivazioni però un po' sembra quello il tema alla fine ma lo possiamo capire cioè lo posso capire cioè tu vuoi che parli della tua musica non tanto del fatto che sei bello o non bello complicata come questione molto molto complicata fabbi fibra con emma e baby gang in italia versione 2024 noi siamo una radio lo sapete ci ascoltate spesso e volentieri dalla vostra auto radio in dub plus o in fm sui 96.2 siamo anche ovviamente poi sul web con il nostro sito e con le nostre app di per ios e android ma è importante secondo me dire che cos'è la radio cioè la radio è quel luogo mi viene da dire non è solo un oggetto è quel modo di approcciarsi alla vita ascoltando immaginando chi c'è dall'altra parte interagendo con chi c'è dall'altra parte grazie anche alle nuove tecnologie una volta c'erano le telefonate in diretta adesso ci sono i whatsapp insomma è un modo di fare è un sottofondo spesso volentieri per alcuni di voi non è magari la cosa principale che stanno facendo in quel momento non stanno facendo altro ma intanto c'è una radio accesa intanto ho le cuffiette nelle orecchie e ascolto un po' che cosa mi raccontano quelli lì su Crystal Radio la mattina perché parlo della radio? perché se sei in radio se sei radiofonico insomma ti senti parte di una grande famiglia che va dall'ultima radio in fondo là magari in un'isola della Sicilia fino a quella più abbarbicata sulle vette delle Dolomiti è una grande famiglia radiofonica e quando la radio fa qualcosa di bello va raccontato perché tutto questo preambolo? perché leggo da Repubblica Milano la radio entra nel carcere di Bollate per riflettere sui temi della pena e della riparazione del danno chi lo fa? lo fanno quei geniacci di Caterpillar perché la puntata di Caterpillar andrà in onda domani in diretta dalla casa di reclusione oggi scusate andrà in diretta oggi in diretta dalla casa di reclusione milanese detenuti studenti e familiari delle vittime delle mafie parteciperanno alla lettura dei fratelli Karamazov di Dostoievski questa sera alle 18 appunto Rai Radio 2 Caterpillar è importante appunto non stiamo facendo uno spot per un'altra radio non vi sto dicendo cambiate canale ma vi sto dicendo quanto vedete la radio può fare ed è per quello che sono contento che voi tutte le mattine ci ascoltiate e vi passate questa oretta insieme a noi e magari poi anche le ore successive perché no perché è bello far parte di questa grandissima famiglia che porta uno strumento così antico ormai come la radio che non è per niente l'ultimo ritrovato della scienza come dire ma che fa parte di noi c'è poco da fare fa parte di noi tanto che Radio 2 decide appunto di fare questa interessantissima operazione con Caterpillar che appunto alle 18 di oggi andrà in onda con Massimo Ciri e Sara Zambotti dal carcere di Bollate con loro tantissimi ospiti vi faccio alcuni nomi che magari non conoscete ma è interessante vedere anche chi andrà a raccontare e a leggere i fratelli Karamazov insieme ai conduttori di Caterpillar Marisa Fiorani ad esempio la mamma di Marcello di Levano ucciso nel 1990 dalla Sacra Corona Unita per la sua collaborazione con la giustizia e poi Paolo Setti Carraro fratello di Emanuela che era la moglie del generale della Chiesa uccisa dalla mafia nell'82 e poi ci saranno anche Manuela Alessandro giornalista l'illustratore giudiziario Andrea Spinelli e il direttore del carcere di Bollate Giorgio Leggeri insieme al magistrato Francesco Cagliani ma poi tanti tanti altri interessante appunto che è fatta in occasione al 20 marzo ma sarà fatta in occasione poi che il 21 marzo è la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie appunto che avverrà il 21 marzo quindi una bella operazione e viva viva la radio questo è quello che facciamo la radio è con voi e la radio è per voi Presidente lo usiamo come slogan la radio con voi la radio per voi Crystal Radio Good Morning Milano Ed è un attimo che è subito villaggio vacanza un attimo Whitefield con Think of You questo era il Crystal History delle otto a volte devo dire grazie all'ufficio programmazione perché ci dà veramente delle perle questa mi ero completamente dimenticata questa canzone della sua esistenza e invece torna prepotente qui a raccontarci di quando spensierati ballavamo in quel di Sharmel Shake forse non era neanche in auge Sharmel Shake all'epoca era tutt'altro emete comunque vabbè ben tornati ben tornati quindi qui a Good Morning Milano su Crystal Radio sono le 8.07 dopo questo Crystal History che ci ha fatto ballare tutti quanti passiamo un po' invece ad approfondire notizie e avvenimenti della giornata anzi lo facciamo con un ospite che è in collegamento con noi parlo di Stefano Burchielli del Consorzio Est Ticino Villoresi buongiorno scusi Stefano colpa mia regia colpa mia non ho aperto l'audio di Stefano rifacciamo buongiorno Stefano buongiorno buongiorno allora benvenuto grazie di essere con noi perché quest'oggi giornata intensa quindi la vediamo già in ufficio quindi capisco che sarà una giornata lunga e intensa ma con due momenti importanti perché vediamo l'inaugurazione dell'avvio dei lavori di due vasche di laminazione carnate e gessate giusto? esattamente cosa sono queste vasche di laminazione di carnate e di gessate e lungo quale corso sono state fatte e perché? allora le due aree di laminazione sono delle aree diciamo che naturalmente erano già destinate ad essere allagate dalle acque di due corsi d'acqua uno si chiama Trovia ed è il ramo di gessate della Trovia e scorre nelle zone tra Cambiago Gessate e poi scorre verso sud a Bellinzago Lombardo fino ad arrivare a Trucazzano la Molgora invece è il corso d'acqua che attraversa Carnate e poi via via lungo un corso di quasi 34 chilometri anche lei giunge a Trucazzano si unisce con la Corvia e entrambi sfociano nel canale Muzza che è un canale irriguo particolarmente rilevante diciamo della zona sud Milano canale irriguo detto perché ricordiamo sempre che appunto il consorzio villoresi ha a che fare con questi canali che sono sempre diciamo il nostro oro blu in un certo senso l'acqua fondamentale per la pianura padana intera quasi non solo per la nostra zona esattamente il consorzio villoresi si occupa essenzialmente di due attività connesse con l'acqua una di fornirla laddove manca quindi al mondo dell'agricoltura ed eventualmente ad altri usi anche produttivi dall'altra parte l'attività di bonifica vera e propria cioè di cercare di togliere le acque in eccesso soprattutto per quelle aree urbanizzate o industrializzate in cui l'eccesso di acqua diciamo non favorisce lo sviluppo sociale dell'economia ecco ultimamente mi ha sentito parlare spesso di vasche di laminazione ahimè per vicissitudini un po' più complicate legate al seveso queste vasche sono state fatte per quale motivazione invece diceva in realtà anche il luogo in cui sono state fatte ha un senso c'erano già zone destinate all'allagamento nel caso di eccesso di acqua giusto quindi è un modo per gestirle meglio come funzionano sì allora il concetto di base è questo il territorio naturalmente genera delle acque diciamo di scorrimento in caso di pioggia ovviamente l'urbanizzazione fa sì che queste acque siano quantitativamente superiori e che arrivino anche in tempi più rapidi quindi l'evoluzione del territorio quindi la sua urbanizzazione ha fatto sì che in determinate aree ci fossero delle concentrazioni di quantità di acqua e nello spazio e nel tempo che in alcune situazioni diventavano incompatibili con le dimensioni dei corsi d'acqua da questo punto di vista è indispensabile realizzare delle specie di invasi quindi è la funzione un pochino paragone ma rende bene l'idea del lavandino in cui io riverso dell'acqua ce l'accumulo la come dire aspetto che a valle ci siano delle condizioni più favorevoli dopodiché posso stappare come dire questo lavandino e lentamente consentire all'acqua di definire quindi un pochino l'obiettivo è questo ho delle necessità di sicurezza a valle intervengo a monte questo è un pochino il principio di funzionamento nel nostro caso abbiamo individuato due aree che per motivi come dire naturali e in parte anche artificiali già erano come dire vocate ad un loro come dire ad una destinazione di accogliere le acque aggessate perché all'epoca della costruzione del canale villoresi quindi parliamo della seconda metà del 1800 l'attraversamento della trubbia che passava sotto al canale villoresi aveva una dimensione che per quegli anni era sufficiente l'evoluzione del territorio specialmente quello a nord ha fatto sì che questo manufatto non fosse più sufficiente fosse una sorta di strozzatura e quindi la strozzatura generava un rigurgito di acqua a monte che poi spagliava in alcune aree non abbiamo fatto altro noi che circondare queste aree con delle arginature costruire dei manufatti di regolazione che consentono un utilizzo come dire più versatile oggi si utilizza il termine resiliente comunque sia rendono più versatile la possibilità di funzionamento di queste aree in maniera tale da come dire poterle sfruttare al meglio in tutte le occasioni e non solo in quelle come dire effettivamente estreme un analogo principio è stato fatto a Carnate laddove c'era un attraversamento delle ferrovie quindi della ferrovia che conduce fino a Bergamo che di per sé stessa era adeguata all'epoca della costruzione ad oggi come dire non più sufficiente e quindi come dire l'area che era immediatamente a monte è stata ridisegnata rimodellata in parte ovviamente anche scavata in maniera tale da poter accogliere il quantitativo di acqua che mette in sicurezza i territori a base ma quindi si ho capito queste vasche sono fatte lungo il corso del fiume cioè non è che viene deviato il corso portato nella vasca cioè sono adiacenti alla vasca diciamo adiacenti al corso allora esistono due tipologie tecnicamente di vasche le vasche cosiddette in derivazione in cui in pratica la vasca è di fianco al fiume quindi ho un manufatto che le mette in comunicazione ma il fiume continua ad avere il suo corso oppure le vasche cosiddette in linea che in una qualche maniera abbracciano il corso d'acqua ad est e ad ovest e quindi lungo il corso d'acqua viene costruito questo manufatto di regolazione e quindi l'esondazione è simmetrica cioè può avvenire sia a destra che a sinistra in questo caso quale avete utilizzato di modalità? due o due a Carnate abbiamo utilizzato un sistema in derivazione a Gessate abbiamo utilizzato un sistema in linea ma lì come dire la scelta tecnica a volte è obbligata a Carnate avevamo sul fianco destro del canale la linea ferroviaria per cui obbligatoriamente dovevamo sfruttare diciamo la parte in sfonda sinistra quindi la soluzione in derivazione diventava più naturale a Gessate avevamo la fortuna di poter avere entrambe le aree diciamo ancora utilizzabili e quindi abbiamo scelto una soluzione in linea è interessante ma come funzionerà l'acqua passa o comunque viene messa nella vasca quando c'è troppo invaso e poi dopo quando va via perché insomma abbiamo sentito che ci sono problemi di là invece non voglio farle parlare troppo male delle altre vasche dicendo che la sua è più bella questo ci mancherebbe però c'è il problema dei fanghi queste cose qui come mai avete anche voi questo problema dei fanghi non fanghi come funziona? il problema è innegabile nel senso che le acque che vengono come dire riversate nei nostri corsi d'acqua sono in parte derivanti da bacine naturali quindi dallo scollo delle colline e delle montagne in parte provengono dalle aree urbanizzate ovviamente le aree urbanizzate quindi dalle cosiddette fognature miste o fognature bianche laddove come dire ci sono sistemi virtuosi non fanno altro però che raccogliere il ruscellamento di tutto ciò che sta su strada quindi colverete riccio come dire tutto ciò che è come dire sta intorno a noi tutto questo finisce nei corsi d'acqua le vasche di laminazione come dire una volta che si riempiono tengono l'acqua per un determinato periodo di tempo in questo periodo l'effetto qual è? quello di decantazione quindi l'acqua perde tutto questo materiale questo contenuto solido che si deposita sul fondo questo qui fa sì che siano necessari dei cicli di manutenzione annuali più che annuali quindi biennali e triennali oppure addirittura anche più volte l'anno per rimuovere questi materiali in eccesso e quindi andare a ripristinare quella che è la volumetria iniziale della vasca è un problema ma come dire è insito nel sistema lo stesso problema ce l'abbiamo sui corsi d'acqua cioè laddove un canale ha una forte pendenza e quindi riesce a trascinare i materiali il problema non si pone non si vede laddove ovviamente si arriva in pianura e le pendenze diminuiscono perché la pianura ovviamente ha come dire è pianura è pianura lo fa lo fa lo fa lo fa è quello di sedimentare quindi di rilasciare tutto il materiale che ha trasportato e quindi per poter mantenere le sezioni come dire ufficiose quindi libere e in grado di svolgere la loro funzione è necessario periodicamente svolgere questa operazione e quindi oggi possiamo venire a vedere l'inaugurazione però quando è che avviene e come e dove avviene e poi quanto torneranno i lavori allora i lavori in realtà sono iniziati alla metà di ottobre ok però diciamo all'epoca sono state fatte solo le operazioni preliminari che erano essenzialmente il taglio della vegetazione perché erano tutte aree come dire in parte ancora buscate o in alcuni casi coltivate diciamo anche se non erano aree irrigue in senso stretto ok è stata fatta la bonifica ordini bellici quindi è stato come dire verificato che non vi fossero congegni ordini bellici ne esplosi questo in particolare per Carnate che aveva a fianco una linea ferroviaria di particolare importanza era stata un'operazione come dire essenziale cioè non se ne poteva fare a meno e non avete trovato non avete trovato nessun regalo nessuna sorpresa no ok per fortuna meno male 15 oggetti metallici erano qualche dente di aratro o qualche cosa diciamo connessa al mondo agricolo che fa suonare il metal detector ma diciamo non ha nessun tipo di rispetto collaterale dopodiché dal mese di febbraio sono iniziate le operazioni di scavo ovvero proprio di queste aree che sono come dire il cuore perché è lo scavo che genera il volume poi da invasare mercoledì mattina ci sarà un momento di incontro a Carnate quindi dove diciamo proprio all'interno dell'area di cantiere dove sono in corso di esecuzione le opere quindi si potranno vedere gli scavi in corso la costruzione dei rilevati arginali e già ci sono i primi scavi per le opere in cemento armato che costituiscono quel manufatto di regolazione che le dicevo prima cioè quello che ci consente di poter come dire modulare la portata che facciamo transitare verso Valle quanto durano i lavori e quanto poi sarà impattante per l'ambiente circostante questi due manufatti parlato di cemento armato parlavamo prima in mezzo a di boschi comunque i lavori diciamo avranno una durata che interesserà fino alla primavera del 2025 da cronoprogramma l'ultima azione dei lavori prevista è per gessate per gennaio 25 per carnate per marzo 25 ovviamente i cronoprogrammi sono fatti con condizioni meteo come dire medie indicativamente si considerano tre giorni di pioggia al mese è chiaro che gli ultimi 20 giorni che hanno visto condizioni meteo avverse già come dire generano dei come dire un allungamento dei cronoprogrammi l'idea comunque è quella che queste vasche una volta realizzate e ovviamente una volta che sia avuto anche il tempo di come dire riavvio della parte vegetativa siano il più possibile poco visibili cioè sono state previste degli inserimenti ambientali in maniera tale che quella che era la vegetazione preesistente torni ad essere lì dove era che le opere come dire gioco forza dobbiamo fare in cemento armato vengono comunque sia mascherato cioè vengono in qualche maniera tutite e coperte dai rilevati in terra che poi verranno inerviti e che laddove è possibile si utilizzino tecniche di ingegneria naturalistica che coniugano come dire ottimizzano le necessità tecniche di stabilità delle opere quindi di come dire prestazione di questi manufatti con un inserimento ambientale e paesaggistico che le renda anche gradevoli alla vista e che soprattutto possa consentire il ripristino di flora e fauna che erano preinsistenti beh allora noi staremo qui a vedere come andranno avanti poi i lavori e speriamo di riparlarne fra un annetto più o meno quando appunto potremo inaugurarle invece e sperare in realtà poi che non funzionino mai perché poi questa è la speranza cioè noi le facciamo e speriamo che non vadano che non debbano funzionare anzi non che non funzionino giusto? assolutamente assolutamente e allora buon lavoro immagino sia una giornata abbastanza piena di impegni quella di oggi in vista di domani ricordiamo quindi appunto domani domani mattina giusto a Carnate se non sbaglio e il primo pomeriggio a Gessate il primo pomeriggio a Gessate con l'inaugurazione e l'avvio dei lavori delle vasche di laminazione appunto di Carnate di Gessate a cura del consorzio Est Ticino Villoresi Stefano Bruchelli grazie mille buon lavoro allora buona giornata buona giornata grazie e grazie anche appunto per gestire questa parte importante della nostra regione della nostra provincia che sono appunto le acque le acque del Villoresi le acque del Naviglio le acque che fanno tanto bene all'agricoltura insomma prima l'ho chiamato oro blu per quello perché insomma davvero è oro per i nostri agricoltori che ne hanno sempre tanto bisogno grazie proprio anche al lavoro del consorzio Villoresi grazie mille e a presto allora grazie mille arrivederci e vi auguro che la vostra vasca sia un capolavoro come canta anche il volo avanti così Cristal Radio good morning Milano questo è il volo con capolavoro e auguriamo appunto al consorzio Villoresi che sia un capolavoro perché ho voluto avere qua il consorzio Villoresi questa mattina perché era importante parlare appunto dell'anche adesso non gli ho voluto dire così nel senso ci mancherebbe ma insomma dopo tutte le polemiche sulla vasca di Bresso ieri abbiamo avuto anche il consorzio No Vasca che ci ha spiegato il perché una vasca attaccata alle case con tutto quello che ne concerne con tutti i fanghi che poi rimangono sul fondo e la polvere che si alza quando devono essere pulite queste due vasche invece sono fatte in tutt'altra maniera non vi dico appunto bravi uno bravi l'altro vi spiego solo come succede che poi è quella storia che raccontava anche ieri la nostra ospite dicendo abbiamo cercato altre vasche come quella di Bresso non le abbiamo trovata perché di vasche l'Italia è strapiena in Veneto ce ne sono alcune anche molto molto più grandi di quella di Bresso ma che funzionano in maniera diversa perché sono lontane dalle case e quindi ok bisogna mandare giù il boccone amaro della devastazione un po' del territorio ma quella ci ahimè o buttiamo il concetto qual è che allora se continuiamo a costruire sui fiumi ormai è stato fatto negli ultimi cento e pass'anni o buttiamo giù le case che sono sui fiumi e quindi allarghiamo di nuovo i fiumi li facciamo di nuovo rendere permeabili e tutto oppure hanno fatte queste vasche visto che non credo che nessuno di noi voglia vedere la propria casa buttata giù semplicemente per allargare il fiume anche perché io come dire sono già trovata lì la casa che ne sapevo io ormai perché il problema è quello e giustamente queste vasche vanno fatte vanno fatte fuori dai centri urbani vanno fatte in piena campagna come saranno fatte quelle di carnate e di gessate proprio per cercare di non dare troppo fastidio e soprattutto rischiare anche la salute di chi abita in quelle zone in questo caso abbiamo visto come si può fare questa cosa grazie al Consorzio Villoresi appunto è un progetto fatto pensato su ovviamente dei fiumi e dei torrenti che non hanno sicuramente l'impatto che può avere il Seveso su una città come Milano ma che nel loro piccolo come dire è una frase che uso spesso no? scusate quel famoso libro anche le formiche nel loro piccolo si incazzano ecco anche i torrentelli nel loro piccolo si incazzano quindi possono tranquillamente portare a grossi problemi ricordiamo che con i carnati diceva c'è la ferrovia che passa lì no gessate c'è la ferrovia che passa lì quindi capite che non è così semplice da gestire quando questo esce fuori e inonda la ferrovia e magari devi fermare i treni che già sono sempre in orario soprattutto sulla Milano Bergamo sappiamo quanto siano in orario il Treviglio che viene a Milano sappiamo che è super in orario come no ci manca solo che venga inondato e che quindi non possa funzionare bene la linea per via del fiume quindi insomma per questo ho voluto parlarvi di vasche le vasche ci sono vanno fatte e bisogna poi capire come e dove si possono mettere andiamo con la musica Jennifer Lopez Can't Get Enough Claudio Baglioni mille giorni di tè di me so che avete in questo caso cantato avete pianto ah se lo so mica me la metto a caso le canzoni eh sì 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 anzi ringraziamo l'ufficio per preparazione per queste grandi pezzi che fanno bene alla nostra mattinata qui su Cristian Radio vi ricordo sempre 331 7853 555 il nostro numero di whatsapp a cui potete scrivere per raccontarci un po' quello che siete facendo vi ricordo che oggi punto è il 19 di marzo quindi auguri ancora a tutti i papà e a tutti i Giuseppe in ascolto voi li avete fatti i vostri auguri ho il mio instagram e il mio facebook completamente intasati di foto di padri a cui vengono fatti gli auguri da chiunque di qualsiasi età colore razza o religione cioè in questo caso è proprio completamente democratica su tutto questa festa quindi vabbè auguri ancora a tutti i papà un po' di notizie che sono così sparse arrivano dai giornali Repubblica Milano notizia interessante più grande per far capire come l'innovazione è sempre sotto casa a volte neanche ce l'accorgiamo perché a Milano arrivano le telecamere con l'intelligenza artificiale so già so già cosa state dicendo ecco riconoscimento facciale ci no non c'entra niente infatti Repubblica Milano dice a Milano arrivano le telecamere con l'intelligenza artificiale ma che rispettano la privacy per dirigere tra molte virgolette il traffico riuscito il primo test in Viale Monza il sistema che qui scrive il sistema registra il sistema riconosce auto bici e pedoni che prima non si potevano rilevare e permette quindi di valutarne i flussi per programmare meglio le soluzioni viabilistiche cioè cosa sono queste telecamere sono delle telecamere di studio in un certo senso non servono per fare chissà cosa al momento all'istante no guardano registrano tutti i vari flussi così così che se vogliamo poi a dire mettiamo o non mettiamo la pista ciclabile in Viale Monza e aspetta vediamo cosa dicono i dati ti dice che in Viale Monza sono passate una bicicletta nell'ultimo anno e dici beh forse loro non serve molto farla lì facciamo ad altre parti no guarda che in Viale Monza sono passate 850 biciclette in mezzo al traffico insieme ai camion ecco no allora forse lì andrebbe fatto qualcosa ecco perché è importante quando vengono fatte delle iniziative del genere cioè quando noi usiamo la tecnologia in maniera intelligente con appunto l'intelligenza artificiale tutto questo è anche più semplice ma soprattutto è più semplice la ricezione dei dati e la gestione di questi dati quindi capire i flussi i pedoni guarda che i pedoni sono delle cose più complicate da gestire in assoluto perché quando siamo a piedi ognuno di noi va un po' dove vuole ok ma ci sono paesi al mondo dove questi flussi pedonali vengono gestiti in maniera interessante grazie a volte semplicemente a piccoli accorgimenti fai il marciapiede leggermente più girato a sinistra leggermente più a destra tu indirizzi il flusso ad andare in una direzione rispetto a che all'altra e quello ti serve per andare a far sì che chi deve andare alla metropolitana faccia un determinato passaggio ma chi invece in quella stessa piazza deve andare invece in un grande ufficio o deve andare semplicemente attraversare la piazza faccia altri flussi così che si possa dividere e sia anche più facile girare perché ricordiamo sempre una cosa la città è una città come Milano la si può tranquillamente girare a piedi è una città veramente piccola e come dice il nostro amico Simone Lunghi siamo la più piccola metropoli d'Europa e quindi sfruttiamo finché possiamo questa cosa e anzi ben venga che si pensi a studiare la città quindi a mettere delle telecamere con l'intelligenza artificiale che grazie appunto alla IA ci daranno l'idea di cosa potremmo fare nel futuro quando andiamo a intervenire su questa città viabilisticamente parlando biciclette pedoni camion moto area B area C tutto 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 quanto Beyoncé Texan Old M eh sì non era Dolly Parton no tutti so che vi aspettavate una Dolly Parton coi campero sai piedi invece no era Beyoncé con l'ultimo brano appena uscito a febbraio appunto di quest'anno pensate che questa canzone di è originale di Dolly Parton di Beyoncé è stata la prima canzone femminile a raggiungere country a raggiungere la numero uno in classifica nelle classifiche non country cioè nelle classifiche mondiali e quindi pensate un po' non è il primo disco ad arrivare ai primi vette perché vi ricordate Lil Nas X con Old Town Road che nel 2019 appunto arrivò prima in classifica con quella canzone anche in America in UK ma questa è la prima canzone di un artista femminile la prima canzone country di un artista femminile ad arrivare al primo posto in classifica quindi beh Beyoncé è una seconda vita forse in quella del Tennessee o del Texas appunto in questo caso con Texas Old M beh il country è una di quelle musiche che secondo me sottovalutiamo ricordate che è una delle più grandi industrie musicali del mondo negli Stati Uniti d'America è una delle il genere country detta legge tant'è che appunto vedete alla fine anche Beyoncé anche la grande regina ha dovuto scendere a compromessi oppure forse esce fuori quell'anima country che c'è in tutti noi e quindi così va bene basta finito modern talking you are my heart you are my soul modern talking you are my heart you are my soul 8 e 50 minuti siamo quasi alla fine ma voglio leggere ancora una piccola notizia perché abbiamo parlato delle telecamere con l'intelligenza artificiale e proprio a Milano stanno arrivando invece più bus elettrici ancora leggiamo da Corriere della Sera Milano bus elettrici bake e scala la soddisfazione di sala ma fanno le rime nei titoli questi vabbè tra prendesi non si capisce che cosa voglia dire questo titolo comunque vabbè in realtà il bake credo sia il commissario dell'economia europea la commissione europea per l'economia una cosa del genere comunque dal PNRR quasi un miliardo di euro in arrivo a Milano milioni mille milioni ricordate l'ingegner cane ecco stessa roba un miliardo di euro allora ricordate che io ho un problema con gli ettari con i metri quadri 10.000 15.000 metri quadri non so mai quanti sono e così ancora peggio con un miliardo di euro non ho idea di quanto sia un miliardo di euro cosa ci fai con un miliardo di euro quante gole ad or puoi comprare con un miliardo di euro adesso facciamo se qualcuno mi fa il calcolo non so quanto costa una gole ad or però l'oratorio costava 200 lire quando andavo io adesso non so quanto costi comunque cosa dice il sindaco il sindaco ha fatto il punto sui fondi europei con il commissario europeo all'economia paolo gentiloni e ha detto se avanzano soldi non si capisce perché dovrebbero avanzare comunque se avanzano soldi potremmo farci carico anche di ulteriori progetti a differenza di altre volte la richiesta del sindaco è arrivata senza la spocchia da milanese imbuttito così dice il Corriere della Sera Milano se dovesse avanzare qualche euro delle PNRR perché altre realtà non sono in grado di mettere a terra i progetti Milano si candida a racimolare fondi e finanziamenti in realtà non c'è la spocchia da milanese imbuttito ma c'è comunque una spocchia visto che gli altri non sono capaci di usare i soldi visto che avanzano allora grazie a noi che li facciamo usare noi sì è vero non c'è la spocchia ma c'è comunque sempre quel leggero filo di superiorità che il milanese deve sempre tenere in qualsiasi circostanza quando si dice beh ATM è quella roba lì che fa andare anche in mezzi a Salonico poi non sei messo da Salonico in vita tua però è figo dire ma Copenhagen siamo noi a gestirla la M1 di Copenhagen è roba di ATM sì è vero effettivamente sembra molto simile comunque questo è quanto e sapete che c'è sempre tutto bello a casa mia è sempre così lo dice anche Gali 8 e 56 minuti di oggi martedì 19 marzo auguro ancora a tutti Giuseppe e a tutti papai in ascolto questo è Good Morning Milano dopo di noi come sempre il bravissimo Ambrogio Curti con tutta la musica nazionale e internazionale raccontata con aneddoti non solo ascoltata e quindi voglio ascoltarvela e imparare qualcosa tutto questo grazie ad Ambrogio Curti con Senti Questa io devo ringraziare ancora la mia produzione di Elisa in regia insieme a Maria che hanno coaudiato la parte tecnica di questa puntata e che così possono adesso prendere tutti i vari pezzettini della puntata e metterli sul nostro sito goodmorning.milano.it e mentre la redazione di Milano News e Good Morning Milano si va a riempire io vi do appuntamento a domani e vi ringrazio per la grande compagnia che mi avete fatto questa mattina ah sì perché siamo solo io e Elisa che iniziamo alle 7 e gli altri vanno dopo con molta molta calma oh se venite a venire anche voi a farci compagnia alle 7 noi siamo qua appuntamento a domani quindi domani è mercoledì dalle 7 alle 9 qui su Crystal Radio con Good Morning Milano la vostra sveglia la sveglia dei milanesi buona giornata a tutti e a tutte ciao ciao